Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Ray Jackson che mi chiede di parlare del film del 2014 di e con Paolo Ruffini, Frank Matano, Nina Senicar, Gianluca Fubelli, Alfredo Alvien e altri. Tutto molto bello, produzione italiana, appunto comici di Colorado da tutte le parti, per la storiella veramente una pochade inguardabile. Questo film è orribile, si potrebbe chiudere qui la prima recensione dicendo Ruffini fa un altro lavoro. Terrificante, una regia che chiamarla così è già qualcosa, con una sonora insopportabile. Il film è veramente orribile, orribile sotto tutti i punti di vista, non c'è niente che si salvi, sembra di vedere i cesaroni ancora fatto ancora peggio, non si ride mai, non si riesce mai a entrare i personaggi di contorno buttati lì pupo a caso, buttati proprio a cazzo di cane calabrese e tutti gli altri, proprio sciupati in un niente, in un film che è di tutto molto bello, in realtà dovrebbe essere tutto di mortone e incesso. Il titolo di questo film è che è tutto molto brutto, non c'è una cosa che si salvi. La recitazione di Ruffini, Matano e via dicendo è talmente da recita a Scolastia che fa vergognare veramente solo l'idea di averlo pensato, di potersi mettere davanti allo schermo e recitare in questo stato pietoso. Poi è il classio film proprio che l'Italia non ha bisogno, il classio film televisivo di merda che proprio pone un'altra volta l'idea di quanto in realtà qui si facciano tante chiacchiere, cinema di genere, presentano tanti programmi, tanti discorsi e poi alla fin fine si va a fare la merdata dei film alla cinepanettone ancora peggio perché non si ha nemmeno il mestiere di un neri parenti e un neri di vanzine. Qui siamo proprio buttati alla cazzo di cane, non si ride mai. Frank Matano è da pedate e Ruffini veramente è da non rivolgerli mai più parole in tutta la vita per chiunque lo incontri. Ma questo non è un film, è come Fuga di Cervelli. Fuga di Cervelli appunto è quella di loro che sono scappati per scrivere questi film dove nel mezzo c'è addirittura poveraccio quel guido chiesa che spero lo abbiano pagato veramente bene per scrivere sta monnezza. Questo è un troiaio, uno dei peggiori film italiani di tutti i tempi, Ruffini si continua a buttare giù dopo questo super vacanze natale che è un montaggio terrificante di cinepanettoni, continua a essere uno dei peggiori registi dell'universo e lo dimostra film dopo film, incredibilmente incrollabile di fronte a un minimo successo di pubblico ma continuano a dargli ancora adito a questo che non riesce a beccare mezza cosa. È un film inconcepibile, è proprio la merda del cinema italiano, proprio quando ti vergogni in un certo senso di essere l'italiano. Credo che voglia proprio essere una presa di ulo, credo l'ossimoro del titolo con quello che è il film, credo sia voluto, ripeto perché qui l'unica cosa bella è che qualcuno, questo film è ironica, l'ha pure prodotto e distribuito sta monnezza e poi si parla del perché il cinema italiano casca di sotto i piedi. Nella storiella è di questi due, uno tutto schizzato, uno invece tutto artistoide, quindi tutto fuori testa, che aspettano due figlioli, quell'altro invece che tutto pipipic, lavora per la cittadinanza di entrate, tutto proprio classica roba che nemmeno Totò nel 52, che vanno a mangiare la pizza e poi di lì gli succede una nottata assurda con personaggi incredibili che appunto non hanno niente da raccontare, niente da dire, niente da fare, niente da esistere, non possono esistere, non dovevano esistere, questo film dovrebbe essere bruciato subito nel cassetto, qualunque persona avessi letto questa sceneggiatura e avessi un minimo di coscienza verso lo spettatore avrebbe dovuto dirgli Ruffini per favore, scriveva qualcosa che il genere umano riesca a accettare perché qui siamo di fronte a roba che veramente bisognerebbe non spengere il cervello ma tagliarsi la testa e rifinire 1789 in Francia per poterlo capire perché veramente è un film inaccettabile sotto tutti i punti di vista, l'utilizzo della musica agli attori, il montaggio se lo vogliamo chiamare così, la fotografia se la vogliamo chiamare così, è tutto sbagliato, un film dove non si ride di una lentezza incredibile che porta a una noia mortale e nell'ora e mezzo sembra in realtà di averci passato due vite a guardare sto schifo di film e questo è veramente un film del quale metto il link qui sotto perché qualche livornese folle potrebbe volerlo comprare ma vi assicuro state nella larga, non lo comprate, il link ci lo metto ma state nella larga lo devo dire ma state nella larga perché è un film veramente inguardabile, se poi volete vedere come non si gira la commedia questo è il film perfetto, tempi sbagliati, attori sbagliati, tutto sbagliato, montaggio, fotografia e la regia ripeto chiamarlo così mi sembra un complimento un po' troppo grosso per la gente che si fa davvero un culo così con trellire per fare film questo c'è milioni e le butta pure via in questa merdata quindi che vi posso dire per me donate su Patreon, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante per avere subito le notifiche dei video che escono il pulsante del super grazie per donare direttamente su Youtube seguitemi su Facebook, Instagram e tutto quello che faccio a giro per l'Italia e soprattutto se vi volete veramente del bene bruciate tutti i film dei Rolfini in pubblica piazza perché così perlomeno vi liberate l'anima e la mente